Le stesse certezze San Paolo, Primo Corinzi, 3,16 Non sapete che siete Tempio di Dio e che Dio abita in voi? Ora, se qualcuno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Commento Gli evoluti di tutti i tempi comunicano le stesse certezze. Gli evoluti di Dio. Grazie a tutti.